La definizione di progetto pilota si riferisce ad un progetto che applica una tecnica o un metodo innovativo non ancora o solo parzialmente testato o sperimentato su una porzione di territorio o verso un target di popolazione con l'obiettivo di raccogliere i dati e le evidenze della sperimentazione misurandone vantaggi e limiti per una successiva applicazione di quella tecnica o metodo su una scala più ampia e a vantaggio di un target più allargato di persone e territori. Nel caso del progetto Gatekeeper l'Unione Europea ha finanziato un progetto a larga scala che coinvolge otto siti pilota di sette paesi europei differenti per promuovere l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative che coinvolgeranno 40.000 persone. L'Italia partecipa con la regione Puglia insieme con altre regioni europee, Paesi Baschi e Aragona in Spagna, Sassonia in Germania, Milton Keynes in Regno Unito, Lozzi in Polonia, Cipro e Grecia. Grazie a tutti!